Grazie a tutti. Venendo alla domanda ero molto appassionata di storie con lupi e quindi volevo partire da questo. Nelle storie di lupi di solito il protagonista è un maschio e questa è la prima ragione. La seconda ragione è che nelle storie di fantasy ci sono sempre eroi maschi con grandi magie, grandi poteri, ma le donne semplicemente si limitano a seguirli. Io volevo andare oltre. Colpisce di questo personaggio e anche un po' di tutti i lupi, quelli che sono i ragazzi lupo, colpisce il mix di normalità e di fantastico. Cioè seguono le regole dei branchi, seguono questa dimensione anche legata alla magia, però al tempo stesso litigano con la mamma per portare la gonna. Beh, io ho sempre amato il fantasy e i simbolismi, la magia, Tolkien, ma stavo cercando qualcosa per rendere una storia fantasy più vicino alla vita normale, che permetta di sentirsi nei panni davvero di calla. Come in Harry Potter volevo un mondo magico, ma anche con molte cose che esistono davvero. Poi per quanto riguarda le regole del branco, io sono cresciuta in una foresta di un parco nazionale degli Stati Uniti, a contatto con la vita selvaggia e anche con i lupi. Ero affascinata dalle regole del branco, da come le relazioni sociali tra lupi così ricche, complesse, come anche complicate sono quelle dei gruppi umani. Ecco, scrivendo, ho voluto esplorare questa dimensione. Mi ha molto impressionato, da subito, dalla prima pagina, la forza sensuale di Calla, il fatto che lei desiderasse quasi fisicamente e sessualmente, insomma, in qualche modo, Shea, quando appena lo incontra. Allora, mi sono chiesto se è un modo di raccontare le diciassettenne di oggi molto più pregiudicate di quanto noi adulti possiamo immaginare. Beh, in realtà teenager si resta per sempre. Nella storia volevo esplorare anche con questa scusa proprio la violenza e la forza dei desideri, dell'istinto, e quindi usare anche come scusa e come motivazione narrativa proprio il lupo, come possibilità di far venire fuori l'istinto e la forza violenta dei desideri. Per contrasto, però, questi lupi devono seguire un sistema molto rigido di regole. In realtà stavo cercando di mostrare appunto questo contrasto a più livelli. A un livello ci sono le regole del branco, che imbrigliano sicuramente i giovani e le donne ancora di più nel branco. Sullo sfondo ho messo i contrasti tra i guardiani e i custodi, che poi animano lo sfondo fantastico su cui è ambientata la vicenda. Tutta la storia è anche una storia di crescita, un'educazione sentimentale di calla, e quindi in questo senso anche le regole sono qualcosa che gli adolescenti sentono sulla propria pelle mentre crescono. I conflitti e l'aspetto del mondo dei custodi e dei guardiani, del fatto che devi fare qualcosa ma non ti viene detto perché, ecco, tutto ciò crea quella sensazione che è normale per un adolescente, le incomprensioni verso i genitori e gli adulti. Parlando con un amico economista del fenomeno, del successo che ha avuto a Nightshade negli Stati Uniti, lui mi ha detto, ah, allora è il segnale che la crisi economica non è ancora finita. Ecco, siccome lei è una storica, volevo chiedergli che cosa pensa di questa opinione. Beh sì, in effetti ho scritto di recente una cosa che dimostra che sono completamente d'accordo. In effetti, per quanto riguarda in particolare i lupi mannari, per me sono collegati alla lotta di classe, in qualche modo. Proprio al fatto che quando il resto sta crollando ti affidi a quelle che sono le regole del branco e quando queste non bastano più allora rimani soltanto l'istinto. I agree. Lei che cosa leggeva a 17 anni? Quando ero ragazza ancora non era esploso il genere young adult e quindi da adolescente leggevo in particolare Tolkien, Eddings e altre serie più in generale rivolte ad un pubblico adulto. Ero curioso della reazione dei suoi studenti a questo libro, alla sua attività di scrittrice. Qual è stato? I miei studenti sono entusiasti di questo. A loro piace il libro e sono entusiasti di avere un insegnante che è anche una scrittrice. Penso che questo dimostri loro che nella vita si possono fare molte cose contemporaneamente. e che hanno molti aspetti a tua vita.